Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maverick Io sono Kira, ciao ragazzi, oggi ci troviamo nuovamente su Overcook 2 Dopo una vita che non ci giochiamo più Però questa volta con la parte inerente al canneval... Capodanno cinese Cosa dobbiamo fare? Affetta aranci, pesca e uva Mi pone tutto sul piano Vabbè, questo qua è facile, è soltanto da affettare Io sono il topo e lui il brocione Il brocione è un po' disabile Con che cazzo si corre? Ah, con il cerchio Con il cerchio Io faccio il primo Sto facendo il primo anch'io E no, hai il secondo te No, così lo consegno Via Io ho preso il mango Arancia Mi serve una pesca Tu hai detto arancia? È la mia arancia Faffanbrodo, pigiala Passami un'altra arancia a piacere Tieni Consegna Consegno, consegno Io consegno Tu mi serve l'uva Ce l'hai dall'altra parte E il mango Pesca Non manco Quanto sei lenta Più veloci Schiavo Hai già tagliato Ecco perché non ho la tagliato E qua l'arancia E qua l'arancia Dai, dai, dai Via Pidiamo nuova Pidiamo nuova Dove lo fare il piatto Dove lo fare il piatto No, sei inutile No, ma vai cacare Cosa sei inutile Sarai inutile tu Dai Tagliamelo Tagliamelo Se prendilo Uva Mango Non serve a niente Non serve un cazzo l'uva Io l'avevo già tagliata Mi gifia solo Uva, mi vengono presuta Tra le stelle Cosa rompi Ma f***a Il dragone cinese Datemi il dragone Dai, zitto Non mi dà il tempo Non mi dà il tempo Non vuole scegliere niente No Ora io sono l'indiano E lui è il dragone E non mi ha dato il tempo Allora, che cos'è? Il noodle Allora, aggiungi noodle Carne affettata Quindi bisogna tagliare la carne E metterla dentro Gamba fettata o gamberetti Bok choy nel wok Ho finito di lettere Guarda che belle le cose Perché hai schiacciato Non ho schiacciato, fa da solo A questi basta buttarceli dentro La carne basta buttarceli dentro Tu fai quello con la carne, io faccio quello con il pesce Ok, poi c'è tu metterai Sedanino Finocchio Ma a me sembra un finocchio Ma quello sì Oh Sto sghertando Petizione, abbattiamo Kira Ok, fatto Noodle Ah, si è spostato Dai spostati, strombo A me è pronto Via Ok, noodle Noodle, carne E poi non ci cuore Ah vabbè, è uguale Sì, ma sono sempre così Il problema, l'unica cosa che dà un pochino fastidio È il fatto che devi Spostarmelo Spostarlo Spostamelo Un attimo Posso da solo Io sono passato sopra il fuoco Dai Dai, dai, dai Lavoro sottopagato il mio E siamo in Cina Sì, ma io sono indiano Eh, sei un indiano in Cina Ancora peggio Perché È perché gli indiani in Cina Sono famosi per essere Sottopagati Indiani In Cina Cinghiani Cinghiani Sono cinghiani Sono cinghiali Amore, è meglio fare Principalmente con Il gambe Ma cosa vuoi è pronto? Perché non hai consegnato? Ce n'era uno pronto tu O non l'hai consegnato? L'hai mollato lì? Ah, l'ho mollato lì? Eh, di bedu 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 Niente, farlo con la carne Scherzato E io faccio sempre con la carne Eh, allora Stiamo prosciutto No, sono carne Stiamo prosciutto carnoso, va bene Quanto devo tagliare qua Ma è che il consegno l'ultimo? Che poi l'altro stavo lavando Ok, 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 ok Il consegno l'ultimo Io lavo i piatti perché Sono un po' autistico Devo avere i piatti lavati Con cipolla o senza cipolla? Con cipolla o senza cipolla? Senza cipolla Pronta? Ah, è uguale? No, è diverso Ah, l'avevo già fatto Allora la farina Devi metterla Non lo vedo Mettela a frullare Farina a frullare E io faccio quello con il gambro Devi tagliarlo E poi metterlo a cuocere Direttamente devo anche a frullarlo No, forse direttamente No, devo a frullarlo Carne E ce lo metti dentro Ah, uno cosa è pronto? No, questo pare da fare con la cipolla Questo qua è pronto Si sta smottando E devi fare la carota Aspetta, devo mettere questi qua a frullare Vai, metti quelli da cuocere magari Uh, aspetta Vai Madonna Ma è che palle Via Dai, dragone Non so, non ho Dai, dai, dai Mettilo su Mettilo su Fai il giro di qua Fai il giro Ah no, devi fai il giro di là Fai il giro di là In realtà i piatti erano dall'altra parte Però vabbè Devo mettere una farina là dentro Se non si smotta Ok, farina messa Ora metto Se mi lanci le farine Eh, stavo mettendo quello lì a lavare Ok, piatto pronto Ma caro Vabbè, prendo il gamba Io sto pensando Allora, io penso a lavare i piatti e consegnare Ok Tu pensa al resto Perché io consegno Prendo piatto Lavo Però adesso non c'è nulla sul fuoco Sto mettendo Sta frullando Vado, vado, vado Prendi quello sul fuoco Metti sul fuoco Sto mettendo, sto mettendo Che io devo lavar i piatti Mi serve la farina Ok, vai che ti passo la farina Vai, vai, vai Tre Ah no, forse sono troppe Ah, merda No, è pronto Aspetta che faccio il giro Permesso Cioè, un cazzo Ce n'è uno pronto là sotto No, ecco Uno è finito C'è scaduto, mamma Prendi la parola e mettere dentro Anche non è facile No, dobbiamo rifarlo Il problema Eh, no Sì è troppo scarsi Non va mica bene Ok, 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 ok Dobbiamo riorganizzarci per questo Sì, è semplice Togli ti al balle che devo consegnare Dai, 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 che così consegno l'ultimo Amore Dai, dai, che così consegno l'ultimo Non l'avevi preso? Non so se ce l'abbiamo fatto Mi sa di no Sì, sì Per quello Era pulissimo Sarà complicato Iniziare a essere veramente complicato Bene ragazzi, per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Se fosse così iscrivetevi, lasciate un like Commentate nell'eventualità che vogliate vedere altri video simili sul nostro canale E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi